Nell'austera Villa Scacchi muore in circostanze misteriose la signora Margaret Von Kess. Il giovane Luke Erben viene accusato ingiustamente di furto. Per scagionarlo viene chiamato il più grande detective di Marvalle, ossia... Ah! Il palloncino scoppiato! Per avere l'attenzione funziona sempre! Ok, ora lascia continuare, senza far venire un infarto a qualcuno. Una seduta spiritica, alcuni omicidi, una scacchiera! Ben presto Blake Seller e Tommy Twister, per risolvere questo caso, si ritroveranno coinvolti in una storia più grande di loro, che però devono risolverla con la deduzione e un pizzico di fortuna strampalata. Dagli autori del mistero strampalato di Miramare. Ecco a voi una storia ricca di mistero. Suspense, un testamento perso, colpi di scena e grandi risate. Il mistero strampalato di Villa Scacchi, in vendita su Amazon. Il mistero strampalato di Villa Scacchi.